Accadde tutto il giorno del mio compleanno. Decisi di voler lasciare un segno tra gli amici e i parenti che mi vogliono bene. Thomas Jefferson disse, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E allora, guidando a tutta velocità, decisi di ringraziare personalmente, uno a uno entro la mezzanotte, tutti gli amici di Facebook che mi fecero gli auguri. Ed eccomi qui, signor giudice. Non sperate, sono in bianco! Cavolo, farò tardi per ritirare la torta. Scendico le mani alzate! Mani bene in vista! Ma dai, agente, è il mio compleanno! Beh, auguri! Volevo solo ringraziare i miei amici di Facebook. Troverai altri amici nelle docce del carcere della contea. In che senso? Non li ho su Facebook. Centrale, stiamo tornando con il fermato! Ah, agente, possiamo passare a ritirare la torta? Bella mattin! Meta! Engraziare! Grazie a tutti